Ciao, mi chiamo Raffaella e sono un'attivista dell'Associazione Liberamente Donna EDS. Nel 2014 sono anche un'operatrice dei centri di violenza. L'Associazione Liberamente Donna dal 1998 è attiva nelle azioni di contrasto e prevenzione alle violenze di genere. Nel corso di questi anni abbiamo accolto più di 3.000 donne e abbiamo ospitato presso le nostre strutture più di 500 tra donne e minori. Lavorando da anni con donne che effettuano percorsi di uscita dalla violenza, abbiamo maturato la convinzione che questi percorsi sono tanto più efficaci quanto più aiutano a raggiungere un'autonomia. Molte delle donne che si rivolgono ai centri di violenza sono anche madri ed è il 25% delle volte più complicato per una donna madre riuscire a conquistare un'indipendenza economica. Ed è per questo che abbiamo pensato al progetto Desideri di donne e mamme e alla raccolta fondi su Eppela. Il nostro progetto prevede gruppi di mutuo autoaiuto, percorsi individuali e un servizio professionale di babysitting per restituire alle donne un po' di tempo libero. Inoltre abbiamo pensato a creare un network per mettere in rete le donne con altre donne e offrire la possibilità di entrare in contatto con aziende del territorio. Le nostre azioni di empowerment nascono da una metodologia strutturata negli anni, che mette al centro la volontà delle donne perché possano riappropriarsi dei propri desideri. Io posso. Io posso. Io posso. Io posso. Network, conciliazione vita-lavoro, empowerment, libertà. Queste sono le parole su cui abbiamo deciso di investire. E tu? Investi su di noi? Ci aiuti a seminare i germogli di autonomia? Investi su di noi? Investi su di noi? Investi su di noi?